Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti al nuovo episodio di PokéAsk. Come avvisato su Facebook, oggi non abbiamo pubblicato il video dedicato alla recensione appunto della situazione dell'applicazione Pokémon Go perché recentemente è uscito un aggiornamento e pertanto alcune cose sono cambiate. Avevamo scritto e girato il video in un momento diverso nel quale l'applicazione aveva delle funzioni che ora sono state eliminate, altri insomma contenuti cambiati soprattutto riguardo all'ambito bot e fGPS e quindi insomma ci stiamo prendendo il nostro tempo per rielaborare i contenuti e aggiornarli al nuovo aggiornamento, perdonate il gioco di parole. Comunque di fatto oggi un video leggero riprendiamo con il PokéAsk visto che è più di un mese che non riportavamo questa rubrica sul canale e vi ricordo tra parentesi che oggi è un anno da quando ho pubblicato il mio primo video su YouTube. Ciao Saidonia, volevo farti una domanda riguardante i nuovi giochi. Ho visto vari video che sostengono che Sole e Luna siano il continuo di XY anche per la storia di Zygarde e ho pensato che rivedremo la Lola e il Team Flair perché è strano, non hanno ancora annunciato il Team Malvagio. Tu cosa ne pensi? Ciao, allora, la domanda non è così campata per aria come sembra. In realtà no, non credo che il Team Flair possa arrivare ad Alola semplicemente perché il Team Flair ha fatto il suo tempo ed è stato sconfitto a Kalos. Chi non è stato sconfitto invece è Elisio. Elisio non ha avuto un vero e proprio epilogo, lo abbiamo visto investito da questa grande luce e poi fondamentalmente non sappiamo che fine abbia fatto e quindi questo mi porta a pensare che il personaggio possa essere rilevante all'interno della storia di Alola soprattutto perché c'è Zygarde nel mezzo come tu giustamente dicevi quindi non stento ad immaginarmi un Elisio con superpoteri o comunque un Elisio empowered che arrivi ad Alola per portare a termine quello che aveva iniziato e dove aveva fallito a Kalos. Scegli uno starter, Goku, Saitama o Morandi? Ah, Morandi dovrebbe essere di tipo suono anche se non esiste ma in seno avversamente danno Morandi. Saitama invece è normale lotta, lotta per il pugno è normale perché lui vuole essere una persona normale e Goku invece è elettro per l'aura e le onde energetiche quindi scelgo ovviamente Morandi perché voglio bene a Starchi. È possibile visionare una tua foto senza barba? Fa ridere il termine visionare, cioè una tesi di Laura, la mia foto senza barba. Comunque ecco a voi una foto di Saidonia senza barba. Incredibile, sono proprio io però senza la barba. Ciao Saidonia, non ho nulla da chiederti in realtà. Volevo solo dirti che ho passato un bruttissimo periodo ultimamente ma i vostri video mi hanno aiutato molto a sorridere e a reagire. Senza te Chiara, tenermi in compagnia virtualmente mi sarei sentita molto sola. Mi avete salvato ragazzi, grazie. Ciao, innanzitutto mi fa piacerissimo sentire parole del genere perché significa insomma che i nostri sforzi servono a più del semplice intrattenimento riescono magari anche a tirare su le persone in un momento più di difficoltà e a riguardo vorrei dire una cosa, lasciarmi un commento che è da tanto che covo dentro. In molti si fissano sul fatto che il canale di Pokémon Millennium abbia queste teorie chiaramente io stesso ho portato come format su YouTube Italia che devono essere per forza il centro di tutto quanto il mondo e allora la teoria è giusta e quindi Saidonia è bravo perché ci ha azzeccato e allora guardiamo come azzecca anche questa perché se non l'azzecca poi non va bene ma se l'azzecca è Dio sceso in terra e quindi andiamo dagli altri YouTuber a dire che non sono bravi perché non fanno teorie che azzeccano come Saidonia. Ragazzi, è molto più semplice, tutto quanto è molto più tranquillo. Noi qui, ok, stiamo facendo teorie ed è chiaro che le facciamo per avere ragione insomma le facciamo per azzeccarci però aver ragione e non aver ragione non è il punto del discorso il punto del discorso è intrattenere. Sono video di 15-20 minuti che devono essere come le chiacchierate a ricreazione che facevamo con gli amici quando avevamo 12-13 anni e giocavamo a Pokémon. Sono comunque chiacchiere sui videogiochi quindi diamo a loro il peso che hanno vedo gente veramente inferbolata con questa cosa delle teorie ci stiamo solo divertendo ragazzi. Ciao Saidonia e Chiara volevo chiedervi se mi avete mai sentito parlare del Tweaking Glitch su Pokémon di Avanti e Perla e se sì, hai intenzione di fare un video dedicato per la tua rubrica Poké Glitch? Un saluto da Takadoks e LiaoGaug Sì, conosco il Tweaking Glitch se non sbaglio ecco, reggimi nei commenti se sbaglio è quel glitch che si attivava con la bici in quarta generazione per praticamente percorrere dei punti non caricati di mappa che diventavano neri e poi portavano alle zone misteriose delle quali peraltro se non sbaglio abbiamo parlato in un video di Poké Glitch comunque sì, lo ricordo e provai anche a utilizzarlo per raggiungere la ipotetica location di Darkrai che poi alla fine non si riusciva a raggiungere se non nei giochi giapponesi se non sbaglio e infatti poi abbiamo dovuto aspettare action replay e quant'altro per sbloccare l'evento di Darkrai prima del tempo. Ciao Sidonia, complimenti per i tuoi video e le tue teorie confermate. Volevo chiederti un parere sul futuro dei Pokémon secondo te è possibile che i giochi di settima generazione saranno gli ultimi della serie principale o che comunque chiudono una sorta di prima serie? Grazie in anticipo da Gianmarco Busso Ciao Gianmarco, allora no, non credo che i giochi di settima generazione siano gli ultimi questo perché nonostante le varie teorie anche abbastanza arzigogolate che sono state pubblicate abbastanza ovunque con tanto di canale internazionale che ha fatto oltre il milione di visualizzazioni con quel video teoria penso che la vita di un brand sia data semplicemente da quanto vende Pokémon sta vendendo un sacco, probabilmente Sole e Luna faranno un record di vendite a mio avviso superiore anche rispetto ad XY, non è pertanto Pokémon andrà avanti finché ci sarà gente appassionata che compra il gioco e finché Game Freak farà un lavoro tale che spingerà le persone ovviamente a comprare questi titoli tra l'altro con queste nuove introduzioni, con una storia completamente diversa con il restyle dei Pokémon di prima generazione non si può dire di certo che si possa presagire una fine, anzi al contrario, un nuovo inizio Framando cazzo sei, rispondi più su Ask, o sei il papa che non ce la fai a leggere tutti i messaggi che gli arrivano ciao, e allora ti spiego una cosa, praticamente c'è una rubrica che si chiama PokéAsk e la stai guardando adesso, in questa rubrica io leggo le domande su Ask e rispondo e c'è una volta al mese, questa volta è arrivata dopo un mese e dieci giorni quindi su Ask non rispondo perché le domande le prendo, le leggo e poi rispondo qui nel video, capito? come ti immagini sarebbe stata la serie animata Pokémon se fosse stata divisa per saghe quindi Canto con Rosso, poi Yoto con Armonio, Owen con Brandon e così via l'avresti preferita rispetto all'avventura infinita di Ash? beh, che dire, non lo so non lo so perché mi sono allontanato dalla serie animata da anni ormai e ci sto riavvicinando solamente recentemente con tutto quanto il discorso di Ash che potrebbe vincere per la prima volta la Lega Pokémon sicuramente come personaggio Ash non è il massimo del carisma e non mi è mai piaciuto neanche da bimbo c'erano altri personaggi della serie che mi facevano divertire come appunto Brock quindi insomma non è un discorso propriamente di personaggio non importa la fisionomia o il nome del personaggio vorrei più che altro che Ash guadagnasse spessore a livello proprio di carattere nel corso della prossima serie animata, ecco ciao Salidonia, qual è il tuo primo gioco Pokémon? è il tuo primo videogioco? Fesso chi legge? ah ciao, allora il mio primo gioco Pokémon è stato Pokémon Argento quindi io ho cominciato dalla seconda generazione nonostante conoscessi Pokémon da anni ma mi sono avvicinato per la prima volta al videogioco con la seconda il mio primo videogioco invece è stato probabilmente Donkey Kong Country per Super Nintendo uno dei giochi platform sicuramente più difficili della storia anche uno dei capolavori della Rare che al tempo lavorava a Donkey Kong Country se ve lo siete perso compratevi un Super Nintendo e giocateci non lo scaricate con gli emulatori perché non è la stessa cosa vi mettete un bel televisore CRT io ce n'ho uno in camera, giocate, vi divertite un sacco ciao, vorreste avere un allevamento di Milt anche spruzzare il latte in faccia a tutti? pronto, si salve, vorrei subito utilizzare tutti i soldi del mio conto per comprare una fattoria immediatamente non so come fare, non riesco a starci senza ciao Salidonia, ti seguo da poco ma con le varie rubriche mi hai incuriosito moltissimo avevo una domanda a cui spero tu possa rispondere è possibile inserire il professor Salidonia in ambientazioni diverse da Pokémon Xenoverse? immagino serve il tuo permesso ciao, ovviamente si può inserire il professor Salidonia in ogni qual si voglia tipologia di opera basta che non sia, non so, una roba tipo un video su Pornhub perché sarebbe particolare ciao Salidonia, da musicista non ho potuto fare a meno di informarmi e ascoltare anche le canzoni sul canale YouTube della tua band siete formidabili, ho apprezzato tantissimo le vostre canzoni avete progetti futuri o qualche piano o siete in pausa? ciao grande, da Lorenzo Ricci e ricordo che la stessa domanda più o meno è stata posta anche da Lucky Matt, che saluto allora, intanto mi fa piacere che abbiate apprezzato le canzoni di Sogno Livido sono stati un momento importantissimo della mia vita a più di due anni e mezzo sono stati utilizzati pienamente per quel progetto abbiamo avuto tante soddisfazioni, siamo arrivati secondi alla competizione del Sanremo Rock quindi insomma le soddisfazioni ce le siamo tolte adesso però siamo in pausa siamo in pausa per tanti motivi, uno di questi ovviamente è il canale ma il principale fondamentalmente è che il progetto aveva raggiunto una saturazione a livello artistico eravamo un po' stufi di quello che stavamo facendo quindi abbiamo interrotto forse riprenderemo nel corso del 2017 e nel caso lo facessimo organizzeremo anche dei concerti ai quali magari potrete venire tutti quanti per divertirci insieme staremo a vedere ci racconti della tua prima sbronza? un abbraccio ok prima sbronza di Sidonia risale ai miei 15 anni ero fuori con degli amici e sempre in una compagnia appunto di musicisti avevamo fatto serata brava e io avevo bevuto qualche birra di troppo in realtà non è che avessi esagerato più di tanto semplicemente avevo mischiato delle birre a consistenza insomma e tasso alcolico differente quindi ero passato da bere birre a doppio malto a birre bionde poi di nuovo a doppio malto insomma ho fatto il famoso su e giù e a certo punto non ci ho capito più niente però essendo la prima sbronza ho detto vabbè tutto tranquillo non succede nulla sono tornato a casa dei miei sono andato subito a letto ho detto vabbè adesso mi passa invece non sono riuscito a chiudere occhio mi girava la testa avevo la nausea stavo malissimo il giorno dopo per non far sapere ai miei che mi ero sbronzato andiamo tutti quanti a pranzo insieme fuori e io comincio a fare ai miei sapete no vorrei chiedervi delle cose ma tipo quando ci si sbronza poi è normale che la mattina dopo si abbia mal di testa cose così ma non è che io mi sia sbronzato cioè chiedo sì perché a 15 anni potrà capitare è tipo a me che mi guardavano così come per dire a te che stai chiedendo eh comunque sì è normale effettivamente stai di schifo e stetti di schifo tutto il giorno postumi poi insomma mi sono dato la regolata più o meno ciaoone volevo chiederti una cosa la musica di sottofondo che usi nelle serie poche glitch è in qualche modo reperibile mi piacerebbe ascoltarla ho letto nella descrizione ho visto che sei tu l'autore bravissimo ciao sì ovviamente tutte le soundtrack del canale di pokemon millennium sono ascoltabili all'interno del mio soundcloud che trovate in descrizione e ci trovate anche nel soundcloud alcune soundtrack non ancora rilasciate di xenovers che potrete ascoltare o teorizzare magari eventualmente dove potranno essere riprodotte nel corso dell'episodio M nel bozzetto delle evoluzioni dei tre starter vicino ad ibis c'è anche ash con pikachu è possibile vedere ash in pokemon sole e luna? ci scrive francesco zanoni ciao francesco non credo che sia ash credo che sia rosso partiamo da questo presupposto potrebbe essere un placeholder ho risposto a un commento del genere anche sulla pagina facebook di sidonia rosso viene utilizzato dai tempi dei tempi come placeholder per qualsiasi tipologia di allenatore protagonista quindi potrebbe essere semplicemente un disegno messo lì a caso per far capire che accanto al protagonista c'è un personaggio xy come ibis in questo caso però credo che possa essere rosso più che altro perché il modo in cui è vestito il cappello non mi sembrano quelli di ash tra l'altro vi ricordo che nel bozzetto della fontana che abbiamo visto di quell'hotel mastodontico presentato nel primo teaser di sole e luna avevamo ad occhiato un personaggio molto simile al rosso e visto il grande collegamento da sole e luna e la prima generazione potrebbe esserci un ritorno nella trama di questo personaggio ciao sidonia quest'anno sarai presente a lucca comics and games ci scrive are you serial? sarò presente a lucca comics and games ma non so ancora se semplicemente come spettatore insomma come persona pagante oppure come ospite so che ci sono delle cose in ballo di cui ancora non vi posso parlare ma se queste vanno in porto vi assicuro che sono grandi 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 pensi che farai altre rubriche inerenti alle lotte o ti fermerai gli speciali bgc ed un battle? ciao credo di fare una guida al competitivo l'avevo in progetto da tempo ma con sole e luna avendo fiutato uno stravolgimento del battling sarebbe assurdo fare una rubrica adesso spenderci tempo e fatica e soprattutto anche per voi spiegarvi delle cose che da un giorno all'altro potrebbero cambiare magari io vi spiego come si brida un pokemon e in sole e luna si brida in un altro modo credo invece che con l'uscita di sole e luna una delle prime rubriche a parte il gameplay sarà proprio quella sul competitivo così tutta quanta la community italiana o meglio quella che segue il canale di pokemon millennium entrerà subito nell'ottica di com'è il competitivo mi dispiace vedere le persone che rimangono indietro magari la seconda o terza stagione di un competitivo cominciano a chiedersi come funzionano le cose cerchiamo di stare tutti quanti in pari stavolta beh ragazzi che dire oggi abbiamo chiuso con le domande e abbiamo fatto anche il racconto incredibile della sbronza come sapete in fondo alle puntate di pochi ask c'è sempre Chiara però stavolta Chiara ha i capelli raccolti talmente male perché si è svegliata da poco che sembra tipo senshiu versione a lola e quindi non si vuole far vedere quindi saluta il nostro pubblico facendoci sapere che sei ancora viva sì sono ancora viva ma tu dopo questa registrazione probabilmente non lo sarai tu hai le tue battutine simpatiche io vi ricordo che potete scrivermi le domande per la prossima rubrica sia su ask che nei commenti di questo video inoltre se la mia sbronza vi è piaciuta potete mettere un'altra e in descrizione vi lascio la pagina facebook di Sidonia il canale di telegram per rimanere sempre aggiornati sui feed dei video e anche l'evento del raduno che a Milano ci sarà questa domenica dedicato a Pokemon Go vi lascio tutte le informazioni qui sotto così potete vedere di cosa si tratta e nel caso pigiare partecipa se vorrete venire a farci compagnia noi ci vediamo domani con Poke Glitch dedicato alle Super Glitch Moves ciao ragazzi ciao